Esattamente un anno fa, il 25 gennaio del 2020, si presentava sul palco del Teatro Umberto Giordano un presepe insieme al cortometraggio che lo ritraeva. L'autore è un avvocato, Michele Clima, che con il fratello dopo 25 anni ha continuato a coronare il sogno di realizzare dei capolavori presepiali mettendoli in simbiosi con la storia millenaria di questo territorio e di questa città. Oggi sono con noi Gianpier Clima e Michele Clima, autore dei presepi, insieme al fratello Gianpier che ha realizzato per il secondo anno questa opera video che ritrae e racconta di questa ennesima straordinaria opera presepiale di Michele Clima. Una volta era facile parlare di presepi, oggi è una cosa un poco più ricercata, comunque sono tanti anni e almeno dagli anni 90 ne facevamo di grandi, addirittura devo vantare i miei record perché altrimenti non lo fa nessuno. Allestire un presepe su un palcoscenico di un teatro è uno dei primi record del mio presepio e si ritraeva a Foggia al Teatro del Fuoco prima che diventasse l'attuale teatro ma era già un teatro nel 97. Ci sono riferimenti specifici di contesti e di luoghi che raccontano anche la storia di questa città? Senz'altro, ci ha preceduto Carmine De Leo che è un amico di famiglia e nonché un frequentatore di tribunali, ahimè anche lui, ed è stato sicuramente uno dei miei maestri nel raccontare storie foggiane e in particolare pure il presepio di quest'anno che in realtà sono scenografie realizzate 21 anni fa e riproposte quest'anno per una serie di coincidenze. Partono proprio da una riproposizione di carte d'archivio di Carmine De Leo all'opusso della rota, ai foggiani non dice niente, è una piazzetta che sta qui dietro peraltro che ha subito tante trasformazioni. Anche questo auditorium custodisce un segreto che riguarda una storia di un presepe? Sì, questo è un record della città di Foggia invece, a fine 600 si ha a memoria del primo presepio alla napoletana diremmo così, con figure terzine, le statue di 30-40 centimetri che hanno fatto poi grande il presepio napoletano del 700 e si traccia appunto di un presepio realizzato qui a Foggia, proprio in Santa Chiara. Quindi siamo in un luogo deputato proprio storicamente al presepio. Vogliamo raccontare di questo video che ha descritto questa vita meravigliosa che si svolge all'interno del presepe di suo fratello Michele? Sì, è sempre Michele l'autore del testo e quindi della narrazione. Io ho cercato di rendere quanto più vive possibili le immagini e il contesto che di per sé è immobile. Quindi abbiamo due protagonisti, il maestro Carlo Carunchio e il piccolo allievo Michelino che danno voce a questo presepio e quindi sono le due voci principali che ho cercato di dare vita proprio con delle soggettive. Ossia colui che guarda questo cortometraggio lo guarda con gli occhi dei due protagonisti, Carlo e Michelino. Quindi per quanto riguarda gli aspetti tecnici sono state adoperate delle piccole telecamere che mi hanno permesso di entrare in tanti anfratti interni di caseggiati che descrivono quindi tutto il presepio nei dettagli. Una sorta di documentario ma anche una rappresentazione teatrale molto affascinante. Ci sono le voci anche di un interprete del bambino che si chiama Giuseppe Mezzina, sono voci della gente di questo territorio. Quanta emozione c'è nel ritrarre questa vita nascosta e custodita dentro queste opere d'arte realizzate da suo fratello Michele? Beh, l'emozione è tanta perché proprio la realizzazione del presepio è qualcosa di, non lo dico perché sono il fratello, ma obiettivamente è qualcosa di davvero affascinante. E quindi l'idea di poter dare vita a questo presepio è davvero una grande soddisfazione. Sono anni che io dico che ne dobbiamo fare un film, ma prima o poi faremo proprio, veramente faremo un film, anche perché adesso si è creato un poco di, con questo secondo anno, secondo cortometraggio, si sta creando un poco di attenzione anche fuori da Foggia. Probabilmente la cosa più facile è che l'aiuto o la mano venga da fuori. Beh, la comunicazione può essere preziosa, d'altronde l'ha dimostrato la presenza del pubblico numerosissimo, della folla presente in occasione della rappresentazione teatrale. Abbiamo molti amici. Amici che apprezzano, che sono in grado di apprezzare. Beh, evidentemente, no, Foggia appunto, quanto è bella Foggia appunto, però dovrebbe dimostrarlo di più. Chiudiamo con questo augurio, con questo auspicio, che poi un po' è anche una realtà, altrimenti non ci sareste voi a realizzare queste opere straordinarie, che raccontano la bellezza di quello che avete potuto guardare, di quello che volete tramandare. Vi ringraziamo moltissimo per essere stati qui. Io non le mordo, io no. D'altronde siamo qui a raccontarlo, siamo ancora in tempo, perché anche le opere prese piali possono smontarsi il 2 febbraio, il giorno della Candelora. Sì, infatti, siamo abituati adesso a destagionalizzare il presepio. Allora, approfittiamo anche addirittura per ricordare che siamo all'inizio dell'anno. Ci auguriamo che ci sia una prossima edizione di questa realizzazione presepiale straordinaria. Ancora congratulazioni e grazie per essere stati con noi. Grazie a te.